Mia madre mi diceva sempre La cultura passa dalla bocca Lo street food non riflette soltanto il cibo tradizionale ma i gusti locali più disparati Avventuriamoci allora insieme per assaggiare le cose più incredibili Mangiare per strada vale tutto il viaggio Vi serve solo una buona mappa e l'appetito per addentrare l'avventura I piatti più caratteristici li scoprirete macinando chilometri a piedi Viaggeremo in più di 50 paesi alla scoperta di piatti unici in una carrellata di ricette tutte da asporto fatte di tradizione e nuovi sapori Quindi preparate passaporto e scarpe comode per una passeggiata alla scoperta di sapori freschi Sembra appena pescato ed è stato cucinato davanti ai miei occhi È così che dovrebbe essere il prosciutto in tutto il mondo Buono! Metteremo da parte le guide gastronomiche per andare a caccia delle autentiche gustose ricette locali dal thailandese al caraibico al barbecue stile meridionale Non c'è street food migliore di questo Non c'è street food migliore di questo Metteremo da parte le guide gastronomiche